Il bentornato negli studi temporali lo diamo alla dirigente scolastica dell'Istituto Don Milani di Montichiari, di nuovo con noi la professoressa Laura Covri, bentornata. Grazie, ben ritrovata anche voi, buongiorno a tutti. Bentornata tra noi, gli ascoltatori sempre invitati a partecipare alla trasmissione, visto gli impegni appunto che do soltanto una coordinata, quella per mandare sms e messaggi whatsapp che è il 348-3188-339. Lo ripeto, 348-3188-339. Allora, vorrei chiederle subito come va il progetto Dada, visto che l'Istituto Don Milani di Montichiari è all'avanguardia anche sotto questo aspetto. Allora, il progetto Dada ormai è partito dallo scorso anno come primo anno di sperimentazione e costituisce dal mio punto di vista un processo di innovazione direi irreversibile, nel senso che una volta che è partito è impossibile ritornare indietro. Quest'estate, per noi l'estate è sempre un momento di utile tempo per riqualificare gli arredi e le aule, per cui a scuola vuota i lavori continuano. Quest'estate siamo riusciti a riqualificare 12 aule, a tinteggiare secondo degli schemi dati dagli architetti, quindi guardando l'illuminazione e la gradevolezza degli ambienti. 12 aule e un corridoio, quindi piano piano le aule sono tante, sono 85, quindi abbiamo appunto questa volontà di anno per anno portare avanti questo progetto di riqualificazione. Ne arrederemo due di aule innovative, non sono ancora arrivati gli arredi e i touch screen arriveranno per metà fino a ottobre e quindi, come dire, piano piano andiamo avanti dal punto di vista strutturale, quindi aule e arredi. Invece il focus che interesserà quest'anno riguarda sostanzialmente due punti. Uno è il discorso della personalizzazione delle aule, cioè i docenti, quei due o tre docenti che abiteranno, supponiamo, l'aula di storia o di filosofia o di matematica, dovranno quest'anno insieme agli architetti capire come rendere personalizzato quello spazio sulla base della disciplina che si insegna. Quindi insieme agli alunni si dirà come far capire ad un estraneo che entra in quest'aula, che qui si insegna storia, quali sono i nuclei fondanti di quella disciplina, che possiamo anche appendere alle pareti e rendere visibili. Ecco, quest'anno quindi sarà dedicato alla personalizzazione delle aule che con calma, negli anni e nel tempo, dovrebbero diventare laboratori disciplinari. Bene, tra l'altro Claudia Covri, prima per assonanza mi sono accolto di aver detto Laura. Eh, lo fanno in molti. Claudia Covri, è un'assonanza proprio. Allora, e poi un'altra cosa, chiedo scusa se le stringo un attimino anche, per quanto riguarda, quindi riqualificazione aule e poi comunque l'offerta formativa, oltre alla scuola come intesa, dove vanno gli alunni eccetera eccetera, anche una serie di altre cose come corsi serali. Sì, sì, noi abbiamo i nostri otto indirizzi al diurno, quindi cinque licei, due professionali e un tecnico, che sono ormai stabili negli anni e anzi, devo dire, in questi ultimi anni abbiamo avuto anche una crescita di classi e quello è stato uno dei motivi per cui abbiamo fatto il progetto Dada, perché eravamo affollatissimi, molto sacrificati come numero di classi e di aule disponibili. Quindi col Dada, tra le altre cose, riusciamo un pochino di più a ottimizzare gli spazi, anche se siamo sempre abbastanza stretti comunque. La sera invece, dalle 6, 6 e mezza, 6 e venti, iniziano i corsi serali, che sono divisi in due indirizzi. Lo storico corso dell'AFM, che c'è da molti anni e che diploma ogni anno una ventina di studenti che arrivano al diploma in quinta, quindi anche, come dire, raggiungendo dei successi, dei traguardi importanti, perché sono quasi tutti adulti o giovani studenti, comunque maggiorenni, che lavorano e quindi devono conciliare il lavoro con lo studio e quindi quel diploma, secondo noi, ha un doppio valore. L'altro corso, che invece sono due anni che ha iniziato, è quello di MATTE, manutenzione e assistenza tecnica, che dà, io lo dico sempre, una formazione doppia, sia sulla meccanica che sull'elettronica e elettrotecnica. Quindi è importante, per chi magari facesse già l'operaio, avere una sorta di formazione, di specializzazione. Noi abbiamo a disposizione anche i nostri laboratori di informatica, di meccanica e di elettrotecnica, anche con il serale, e quindi io invito degli studenti, che non avessero completato il corso di studi, a venire a informarsi in segreteria per questa opportunità. Benissimo, le posso leggere alcuni messaggi? Sono già arrivati. Allora, professoressa Covri, lei mi ha dato suggerimenti per come comportarsi con mia figlia e hanno avuto riscontro, grazie a lei. Lei è unica, le dicono, quindi poi ancora vediamo, preside, che novità ci sono per gli studenti in questo nuovo anno scolastico? Allora, di novità, va bene, avrete sentito dai giornali che c'è questa ora di educazione civica. In realtà io dico c'era già l'ora di cittadinanza, per cui probabilmente a volte nelle riforme della scuola si cambiano i nomi alle cose, ma i processi erano già attivati. Però, alla luce del nuovo esame di Stato, dove c'è una parte dedicata alla cittadinanza attiva, quindi a tutte quelle competenze, che sono le competenze europee, che riguardano lo studente, ma non la singola disciplina, tutte le discipline, quindi lavorare insieme, l'imparare ad imparare, il progettare, il senso di imprenditorialità, tutte queste competenze, con l'educazione civica, che io voglio dire avrà un voto, è vero, ma non riguarderà un singolo insegnante, dovrà riguardare il consiglio di classe nel suo impianto. Infatti, l'altro nostro obiettivo, che abbiamo detto, è la coprogettazione dei docenti. Cioè, ormai i tempi sono maturi per mettere i consigli di classe in ore calendarizzate, programmate, a progettare dei percorsi di unità di apprendimento, si chiamano, che sono trasversali, interdisciplinari. Quindi, l'obiettivo per il Domilani, ma non solo, perché ormai è un obiettivo per tutte le scuole superiori, è quello di mettersi intorno a un tavolo, coprogettare insieme. E per la scuola superiore, per la forma mentis del docente di scuola superiore, non è così scontato. Assolutamente. Allora, un altro messaggio dice, dottoressa Preside, so che è presto, ma date anche indicazioni sulla scelta universitaria. Sì, 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 noi abbiamo un progetto di orientamento in uscita, che parte da ottobre-novembre e non si ferma mai. Con i ragazzi, soprattutto di quarta e di quinta, ci sono dei momenti di stagi, di incontro, di visita alle università, che noi però tendiamo a chiamare anche nella nostra scuola. Quindi c'è un open day per l'università, che in genere facciamo tra febbraio e marzo, dove sono rappresentati, direi, quasi tutte le università del nord Italia. Benissimo. Poi saluto Ivano, questo messaggio l'avevo mandato prima, però. Ho sentito il progetto Dada, dice no, vabbè, è Dada. Sì, che sta per didattica per ambienti di apprendimento. È un acronimo, eh. Poi, salve, oggi il problema è che i genitori senza nerbo pretendono che noi, questa è una sua collega, allora, li educhiamo per poi minacciare denuncia appena i figli si lamentano. Sì, questo è un grosso problema. Cioè, famiglie e scuola devono andare nella stessa direzione. E in effetti, insomma, per una serie di ragioni, insomma, anche della società di oggi, questi ragazzi di oggi, alla prima difficoltà o prima piccolissima frustrazione, tendono ad essere molto difesi e tutelati dai genitori. È un lavoro difficile, è un terreno da conquistarsi di giorno in giorno, ma è possibile. Ecco, a volte è faticoso il lavoro con i genitori, ma dobbiamo far capire a questi ragazzi che per crescere a volte bisogna anche un po' soffrire o comunque avere qualche piccola sconfitta. Benissimo. Poi, altro messaggio. Esistono alternative alle costose lezioni private per le materie in cui si è deboli? Noi abbiamo già da tre anni sperimentato questo recupero tra ragazzi, dove il più grande e il tutor insegna il più piccolo. Lo chiamiamo imparare insieme. È una sorta di peer education che facciamo dall'una alle due e devo dire che funziona, perché tra ragazzi hanno lo stesso linguaggio e quindi abbiamo nei nostri monitoraggi finali, visto che ci sono dei ragazzini che con la PIR hanno anche recuperato le insufficienze. Perfetto. Poi, allora, vediamo, dunque, 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 si parla dell'importanza del rapporto insegnanti-allievo, mi passa invece che i test di ammissione... Ah, vabbè, ma questa è un'università, devono essere anonimi, che c'entra con nome, cognome, sesso, reddito familiare, eccetera, sospetto che... Vabbè, effettivamente sì, va bene. Però qua parliamo di scuola superiore, non di... Non di test di accesso all'università, eccetera. Noi non ci entriamo. Possiamo essere d'accordo o non d'accordo, però non è un altro argomento. Certo, non è il nostro campo d'azione. Assolutamente. Allora, visto che abbiamo pochissimo tempo, chiediamo alla professoressa Claudia Covri, dirigente scolastica dell'Istituto Don Milani, come vuole concludere. Lasciamo lo spazio a lei, insomma. Allora, io vorrei fare un pensiero ai ragazzi delle classi prime, che accoglierò personalmente giovedì mattina. Ho scaglionato chi è iscritto i ragazzi in prima al nostro istituto, guardi il sito, perché c'è un'entrata scaglionata, dedicherò mezz'ora per ogni indirizzo, sono invitati anche i genitori. I ragazzi di prima e anche i genitori sono sempre molto emozionati, perché rinchiudono nel primo giorno di scuola una serie di aspettative, di desideri, ma anche un po' di ansia e di paura del nuovo. Io li vorrei rassicurare dicendo che l'Istituto Don Milani li accoglierà. Noi siamo una scuola, ce lo diciamo sempre, inclusiva, accogliente e siamo orgogliosi di accogliere anche i 46 ragazzi disabili che abbiamo e cerchiamo di accogliere al meglio. E dire che l'emozione ci sta il primo giorno di scuola, ma dire che di affrontare con calma, giorno per giorno, le novità, gli insegnanti nuovi, le discipline nuove, perché saranno giustamente accompagnati e monitorati di giorno in giorno in questo nuovo percorso. Quindi vorrò portare un saluto e un caloroso benvenuto ai nuovi nostri allievi delle classi prime. Grazie. Grazie alla dirigente scolastica del Don Milani e i Montichiari, Claudia Covri. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro.